Si è spenta a 103 anni Rita Levi Montalcini, unanime il cordoglio dei rappresentanti istituzionali italiani. La sua è stata una vita dedicata alla scienza. Nel 1986 aveva vinto il premio Nobel per la medicina grazie all'identificazione del fattore di accrescimento della fibra nervosa. Dal 2001 era senatrice a vita.